Piano Aro, domani mattina la conferenza stampa di presentazione del servizio di raccolta differenziata in città per il quale la ditta che si è giudicata all'appalto ha avviato la fase di consegna dei contenitori a utenti privati e commercianti. Alla vigilia dell'appuntamento il Movimento 5 Stelle solleva dubbi sul banno pubblicato il 4 gennaio scorso e relativo all'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, selezione, pressatura e conferimento della raccolta differenziata svolta nel centro di raccolta comunale della Perriera per un importo complessivo di 106 mila euro. Si tratta dei cosiddetti rifiuti ingombranti che i cittadini conferiscono all'isola ecologica vicino allo stadio alternativo. Non comprendiamo il motivo di questa ulteriore spesa che andrà ad incidere sugli importi che vanno coperti dall'Atari, già di recente aumentata del 14%, dichiarano oggi i consiglieri Bilello e Curreri, considerato che nel capitolato speciale di appalto del Piano Aro è prevista da parte della ditta la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e della raccolta degli ingombranti. Per di più, aggiungono i consiglieri 5 Stelle, la relazione tecnica che le stesse ditte si abbonano presentato in fase di gara disciplina questo servizio nel paragrafo relativo alla raccolta dei rifiuti ingombranti. Il capitolato speciale d'appalto elenca dettagliatamente i servizi base che la ditta deve necessariamente garantire. A questi si aggiungono i servizi migliorativi presentati nella relazione tecnica che ha permesso alle ditte di aggiudicarsi il bando di gara di affidamento del Piano Aro. Se dunque la nostra interpretazione non è errata, sostengono Teresa Bilello e Alessandro Curreri, emerge che tale servizio è già compreso nel contratto di affidamento e dunque non si comprende perché i cittadini dovrebbero pagare ulteriori 106 mila euro a fronte di una tassa di rifiuti già elevata. Questione che i 5 Stelle pongono all'attenzione dell'amministrazione perché dia i necessari chiarimenti nell'ottica di quello che dovrebbe essere l'obiettivo, ossia contenere i costi del Piano Aro. Grazie. Grazie.